Firmata un'apposita ordinanza in qualità di commissario straordinario per i rifiuti della Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per riprendere la raccolta nei circa 200 comuni della Sicilia coinvolti dallo stop all'impianto di Lentini. Un passo in avanti all'approvazione di due pareri da parte del nucleo di coordinamento della CTS che hanno escluso dalla via i progetti presentati da Siculatrasporti per la modifica degli impianti di biostabilizzazione della frazione umida e di trattamento meccanico di rifiuti urbani non pericolosi. L'integrazione documentale fornita dall'azienda ha infatti permesso alla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali della Regione di rivalutare positivamente le richieste respinte nel dicembre scorso. In attesa del completamento di tutti i provvedimenti autorizzativi nel corso di una riunione preseduta dall'assessore all'energia di Mauro è stato deciso che transitoriamente per 20 giorni i rifiuti continueranno ad essere stoccati e trattati in apposite aree dell'impianto di Lentini sotto il monitoraggio e controllo degli organi competenti. Dopo il provvedimento di emergenza i titolari degli impianti disponibili a collaborare avvieranno le procedure per la cosiddetta omologa, un processo che in base alle caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche dei rifiuti consentirà di abbancarli nei propri impianti limitatamente agli spazi disponibili. Contemporaneamente verrà definita la procedura che permetterà la proseguizione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti trattati da Sicula Trasporti per l'invio presso altri impianti fuori regione. In questo modo, dice il governatore Schifani, evitiamo rischi per la salute pubblica aggravati anche dalle alte temperature degli ultimi giorni. Un provvedimento straordinario e provvisorio supportato da pareri sanitari e ambientali in attesa della conclusione del percorso che porterà alla riapertura dell'impianto di Lentini, ma insorge l'opposizione. Ogni anno si ripropone la solita emergenza rifiuti. Noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo le idee chiare. L'unica direzione è la strategia rifiuti zero, l'economia circolare, un'ecogestione dei rifiuti, così come ci indica l'Europa. Questo governo di destra, invece, in perfetta continuità col governo musumeci, ha come obiettivo la realizzazione di due termomolarizzatori. Bene, posso capire la diversità di visioni politiche, ci sta, ma non hanno fatto nulla nemmeno per fare i termomolarizzatori. E come vedete, siamo qui, io mi sono insediata sei anni fa, oltre sei anni fa, in Parlamento Siciliano, e ancora si parla, si parla, si esce sulla stampa, ma di concreto non si fa nulla.